Ciao Lillo, cosa ci prepari oggi? Ciao, benvenuti. Oggi vi preparo i datteri in un modo molto particolare. Questi qui sono dei datteri che li abbiamo messo un po' al fresco, cioè nel frigo. Li passiamo qui nel cioccolato. Questo è il cioccolato per la copertura? Sì. Sembra una cosa quasi natalizia, idotica. Poi faremo, è già in frigo, che è quasi pronto. Anzi, ce lo metto sopra. Guarda un attimo questo qua. Questa è la mia cioccolata già preparata che versiamo là dentro. Senza farlo col mixer, lo mettiamo là. Guarda. Questa se guardate nel video della cioccolata potete imparare. Io torno sempre a far vedere come si fa la cioccolata. Direi che si capiscono i tuoi gusti, eh? Però, oh, ma hai notato che è cioccolata qua? Ti ha detto ai lavori, lo capiscono, che questa qui è una gioccolata tosta, forte. Capito? Ecco. Mentre si prepara, continuiamo. Guarda già come sono già venuti... Ah, anzi, riprendete mentre io faccio la lavorazione, se no ci sbaglio. Guarda come sono già venuti... È bellissimo. Allora, per non farla indurire dentro, no? L'abbiamo messo qui nel caramello. Quindi tu hai preso dei datteri... L'ho denocciolati. L'ho messo a bagno nel caramello. Dopo, perché nel caramello? In questo modo i datteri non si induriscono. E poi facciamo la copertura di cioccolato. È cioccolato fondente? Sì. Abbiamo cioccolato fondente, gelato al cioccolato fondente, variegato con i datteri, ricoperti di cioccolato. Wow! Come ti è venuta quest'idea, Lillo? Ma dato che avevo fatto la cioccolata dedicata agli amici arabi, visto che se ne parla molto in questo momento, dico ci dedichiamo qualcosa. Dato che l'oro di cioccolato sia per la temperatura e per la cultura non è che ne mangiano molto, quindi lo facciamo. Sembra un quasi astratto questo piatto con il caramello. Ok. Guarda. Wow! Vedi? Fantastico! Altro che le barrette confezionate, qui c'è tutto, cioccolato, caramello. Ci siamo quasi con il coso. Veramente ci andrebbe ancora un po' più di caramello, visto che l'ho finito. io per l'emergenza mi sono portato anche un po' di caramello, scusa un attimo che lo prendo. Ci possiamo mettere anche un po' di caramello di quelli già preparati? Guarda. Per non farli incollare. Sì. E indurire. Nel gelato metterai solo questi interni, interi e ricoperti? Sì, il gelato è già al cioccolato, quindi c'è già il gusto del cioccolato e in più ci saranno questi pezzi da mettere sopra. Se si vuole se ne può mettere qualcuno dentro che ci pensa già alla macchina a fare a pezzi, senza esagerare per non creare danni al mantecatore. in due o tre pezzi. Qua ci siamo quasi. Il cioccolato vedrete che sarà un po' chiaro, però... Ci siamo. Questi dati li hai pensato di metterli all'interno anche o solo come nella parte superiore? Sì, un pochino all'interno e nella parte superiore. Wow! Allora, mettiamoci. Vida a vedere. Ecco. Adesso ci mettiamo anche un po'. Sopra? Non vedo l'ora del momento dell'assaggio. Ma sai che me l'ho dimenticato? Che non ho preso i cucchiaini, adesso li prendo lì, dai. Ah, ma tanto non ti scampi, è piuttosto finito il video l'assaggio, mica mi faccio problemi, eh. Non mi fermerà questo. Allora, aspetta che prendo due sporchie. Bene, Lillo, allora, oggi abbiamo addirittura ricoperto di cioccolato, gelato e adesso ci tocca, eh, Lillo. Ecco. Mangiato. Buon appetito. Grazie, ciao Lillo. Arrivederci.